Ciao, Fabio. Il gesto di oggi è italiano e franzugino alf, D.J. Sip Style, Sebastiano Gosmar. Ciao a tutti. Ciao a tutti. D.J. Sip Style. Qual è l'Italia? Sono di un paesino che si chiama Saluzzo, vicino a Torino, in Piemonte, Nord Italia. Allora, Torino è conosciuta per il calcio, la Juventus e il Torino. Per le macchine, la Fiat, per il cioccolato, Gianduja, Caffarel, o il bicierino. per le macchine, la Fiat, e per il cioccolato, Gianduja, Caffarel, o il bicierino. Sì, prima di tutto la squadra di Juventus, l'Italia. Sì. L'italiano e la caratteristica è Fiatto. Fiatto. Ah, l'italiano è molto importante. Fiatto. Giandria e cioccolato è Caffarelli. Sì. E cosa è Bicerin? Bicerin è una bevanda a base di caffè, cioccolata calda e crema di latte. Torino è il nome del cuore, hot di cioccolato e una crema. Sì. 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 Allora, io sono venuto qua nel 2004, quindi sono circa 16 anni. 16 anni. Sì. Allora, una residenza mensile a Osaka e Kobe in Pari Club. E poi un tour estivo internazionale con un DJ giapponese, Kento, che saluto. E di solito abbiamo a Ibiza, Germania, Francia, Croazia, Italia, eccetera. Allora, io vorrei fare una foto promozionale da usare per i miei SNS. e Flyer o Volantini e lascio alla tua immaginazione. Sì. 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 Sì.